ecco dopo questa breve panoramica di questa radio visore azzurro transistor limitatore della modulazione clippato nonché scheda come avete visto originale eco colt mk8000 vediamo come funziona la radio o ola 123 ci ascoltiamo con il nostro solito lafayette petrus o cambio cambio 1 2 3 prova cambio vediamo un po come rende questo zodiac tokyo il fratellino del president jackson con potenza regolabile e scheda eco in questo caso una scheda eco colt mk8000 della prima serie cambio 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 l'eco viene tenuto basso come il solito per non infastidire la modulazione si potrebbe anche aumentare un po insomma dai va bene così cambio cambio canale 45 chiamata cambio eccolo qua vediamo anche il modulometro o la cambio cambio cambio